E riguardo all'evaporazione c'è un ulteriore aspetto di cui dobbiamo tener conto, è che io vi ho parlato di resistenza di una foglia, ma cosa succede quando abbiamo a che fare con una chioma? E cosa succede quando abbiamo a che fare con una foresta? In effetti i modelli che vengono utilizzati sono modelli di foglia, si chiamano big leaf models. Tutte le piante, anzi tutta la vegetazione nel suo complesso viene modellata come se fosse un'unica grande formula, qui è un'unica grande foglia. Qui vedete rappresentata la foglia, vedete la radiazione short wave, i nomi cambiano ma le quantità sono sempre le stesse. C'è una radiazione long wave incidente, Erling, una radiazione che esce RL out, c'è abbiamo l'evapotraspirazione, c'è abbiamo il calore latente. In generale l'evapotraspirazione è la composizione dell'evaporazione che avviene su elementi del paesaggio diversi, e per esempio potremmo pensare di usare, non so, per calcolare l'evaporazione potremmo usare il Prisly Taylor, dove poi dobbiamo opportunamente assegnare dei valori al parametro alfa. E per la traspirazione invece potremmo usare la trattazione di Schimansky e Orr che vi abbiamo appena detto, dove però dobbiamo andare a calcolare i g. L'equazione che abbiamo scritto è valida anche per le chiome oppure no? Beh, possiamo pensare che sia valida anche per le chiome, se consideriamo come varia la superficie delle foglie esposta alla luce. in particolare, in questo caso dobbiamo fare un modello quindi di chioma, tener conto della luce incidente sulle chiome, suddividerle chiome in vari stati, vedere in quale, quanta parte di radiazione ciascun elemento della chioma, ciascun elemento della chioma subisce. Quindi in ogni momento della giornata, una parte della chioma riceve la luce, parte delle foglie sono in ombra, queste foglie in ombra evidentemente hanno un processo di assorbimento della CO2, quindi un processo fotosintetico rallentato, le altre via via maggiori. Certamente le piante cercano di ottimizzare l'esposizione delle foglie del sole e quindi di ottimizzare la produzione di CO2. Quindi bisognerebbe interporre ai modelli che abbiamo anche presentato precedentemente un modello di chioma per calcolare la traspirazione. Cosa che noi abbiamo fatto e che voi avete a disposizione, lo vedremo nella seconda parte, quindi durante le vostre esercitazioni. Un avvertimento è che ovviamente se voi usate le formule che io vi ho dato così senza alcun sentimento, senza alcuna analisi, senza alcuna osservazione critica, ottenete dei risultati molto diversi. Sia nel calcolo del calore latente, sia nel calcolo del calore sensibile. Per esempio nel grafico qui di sinistra vedete l'evaporazione prodotta in nero da Pemma Montice in blu da Prisley Taylor e mentre in azzurro e rosso con due diverse stime dell'evapotraspirazione fatte con il modello di Schimansky-Aor, però laddove vedete l'Ai1 e l'Ai2, il modello di Schimansky-Aor tiene conto anche della struttura delle canopi in vario modo, ma in particolare anche attraverso questo indice che si chiama l'IF-area index che è praticamente la proiezione della superficie foliare sul piano e in particolare dell'IF-area index viene usato la parte delle foglie di una pianta che sono esposte alla luce. Questi risultati nel calcolo del calore latente, del calore sensibile, non sono evidentemente trascurabili queste differenze nel calcolo del bilancio complessivo di acqua e ha delle conseguenze ovvie anche sul bilancio di energia, perché qui vedete sulla destra rappresentata la temperatura delle foglie e la temperatura dell'aria, a seconda della quantità di evaporazione la temperatura delle foglie può essere più o meno elevata. in particolare una cosa che succede sempre è che la temperatura delle foglie nei momenti attivi è sempre superiore a quella dell'aria che la circonda. E direi che su questi temi che pure vi ho, su quali vi ho accennato, ci possiamo fermare se non ci sono altre domande. Si sente? Si mi dica. Io avrei una domanda su vecchi argomenti. Sì, allora mi lasci. Va bene, adesso chiudo questa.